crazy questa settimana in regalo la DJ Box allora diamo il benvenuto a Francesco di Pontebba in provincia di Udine una una diciamo un ragazzo un ragazzo adulto che ha la passione per la musica lavora anche in una radio quindi in un certo senso è un po' collega e però è anche nell'esercito quindi è anche un po' confuso non so se la radio per cui lavora è nell'esercito o se organizza feste durante le parate Francesco poi ti devo chiedere un po' scusa per quello che è accaduto quando andavi a scuola ciao 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 Alba ciao a tutti lo vuoi raccontare tu perché ti hanno sospeso? ebbè semplicissimo avevamo inventato una fanta DJ avevamo inventato noi eravamo tre ragazzi che di la sera andavamo a comprare i dischi e di giorno potendo ascoltare i professori inventavamo qualcosa di nuovo in classe? in classe in classe perfetto e ci siamo inventati la fanta DJ consisteva che tu facevi la DJ parade ogni canzone davamo delle quote prima della DJ parade cioè prima di sabato quindi tutti i ragazzi dovevano darci la classifica ufficiale tipo ad esempio la canzone che si trova a quarto posto se si arriva a tezzo posto aveva una quote di 1,5 era tipo il fanta calcio della musica? perfetto sì sì il fanta calcio infatti eravamo dei primi i primi anni che era creato il fanta calcio quindi abbiamo inventato questa cosa eravamo iniziati con 20 persone pensate al fine anno eravamo sui 120 già e in quale scuola eravate? giù a Giammoro al professionale in provincia di? in provincia di Messina di Messina ma dopo tu sei stato sospeso però dopo nella vita sei diventato una persona disciplinata oppure sei rimasto un po' diciamo matterello? mattarello un po' matterello dai diciamo così mattarello è presidente della repubblica un po' pazzarello dai un po' pazzarello va bene noi abbiamo la DJ Box per te con alcuni dei gadgets di Radio DJ ti ringrazio carissima Francesco per essere ancora un nostro scottatore ti abbraccio buon lavoro ciao ciao anche a te vuoi sapere cosa c'è dentro? sì ma tu adesso cosa fai nella vita Francesco? adesso cosa fai nella vita? adesso in questo momento? no in generale che lavoro fai? vabbè in generale allora diciamo in poche parole io sto nell'esercito sono attivista ma la mia passione è la musica quindi coltivo di più la passione per la musica che per il lavoro principale in poche parole benissimo un attimo che un attimo che apro eh allora il primo regalo nella DJ Box per Francesco è il carro armato di Radio DJ wow che figa grazie Francesco ma che entri ce l'hai il box ma lo metto qui giù nel giardino non ti preoccupare anche il post auto va bene guarda tu quieres ai